L'emergenza migranti a Lampedusa. Oggi incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno Lamorgese, il presidente della regione siciliana Musumeci e il sindaco dell'isola Salvatore Martello. Il governo ha assicurato l'impegno a limitare l'impatto sulla comunità locale. Sul piano internazionale il titolare del Viminale ha confermato le iniziative per contrastare i flussi migratori irregolari e assicurare un meccanismo europeo per il ricollocamento dei migranti. Grazie.